Guido Marilungo, finalmente il tuo nome è stato spesso e volentieri detto, ridetto, Marilungo come punta di riferimento dell'attacco frentano, ormai sei in rossonea. Sì, sono felice di essere qua perché diciamo che con la società, con l'Atalanta abbiamo deciso che devo andare in Serie B per rimettermi in gioco, di tornare in forma, di tornare un giocatore. Poi ho avuto diversi contatti, però tutte le squadre, ora vediamo, aspetto un attimo, non sappiamo come stai fisicamente, mi è intervenuto il Lanciano con il direttore che mi ha detto noi ti vogliamo, vieni giù, se ci metti un mese, due mesi, ritornare in forma a noi non ci interessa, a noi ci piace e allora ho deciso di venire qua. È un amore che va avanti, se non erro, da tempo. Il Lanciano ti aveva cercato anche nel mercato invernale degli anni passati. No, sì, diciamo che questa è la prima volta che me lo dice, quest'anno la prima volta me lo dice il mio procuratore, però gli anni passati ero andato a Cesena in B perché il Cesena mi aveva voluto fortemente il mister Bisoli e allora ho deciso di andare là immediatamente. Questa volta il Lanciano, a differenza di altre squadre, mi ha voluto fortemente e ho deciso di venire a Lanciano. Guido, fisicamente come stai? Vieni da un lungo infortunio, da Versa dopo la minchievo che con l'asco le diceva per Guido Marilungo ci sono ancora 30-40 giorni da attendere, tu come stai? No, mi sento abbastanza bene, mi sto allenando, non so quando tornerò a allenarmi con il gruppo, però ho già un paio di mesi che mi sto allenando a parte e quello e poi ora deciderò il mister con il suo staff quando riterrà che sono pronto per giocare.